Buon viaggio ragazzi, stai tranquilla, ti prometto che avrò molta cura di lui. Bulbasaur, grazie mille per averci protetti. Senti Melanie, stavo pensando... Visto che Bulbasaur sta partendo, mi offro per rimanere ad aiutarti. È molto carino da parte tua, mamma Magistar, non voglio impedirti di vivere nuove e meravigliose avventure. Ah, immagino che tu abbia ragione. Grazie mille.